Lo sai che è una casa fantastica? Cosa hai fatto? Derrick! Lui è morto. L'hai ucciso tu. No! Cosa? Il tuo coltello. È la tua casa. Solo tu e lui. Cosa hai fatto? Se lo meritavo. Fai un bel respiro profondo. Guarda che se vuoi respiriamo insieme da una mano. Come mai sei così terrorizzata? Come sei entrato in casa mia? Perché sei sempre attenta alle tue chiami. È anche sobria, giusto? Sono qui da una settimana. Hai ucciso tua madre. Una cosa di turba, vero? Ti dispiace per lei. Tu e cadere non avevate un solo compito. Di questa cosa. Una sola cazzo di cosa da fare. Prendervi cura della vostra famiglia. Non l'avete fatto? L'agente immobiliare che ha venduto la casa a mio padre. Ci ha raccontato di te e di quello che ti era successo. E da quel preciso istante non facendo pensare a una cosa. Sì, eri tu la vittima giusta che faceva per me. Adesso immagino che non ti caccio più. Cosa è successo a Boston? Tra te e Pam? Lei si è stufata il tè? E poi mi piaceva tutto. Ciò che facevo. Non mi sembri molto convinto.